Buongiorno a tutti, anche ieri Conte ha dimostrato che quando si trova a gestire solamente una competizione è praticamente infallibile, sa leggere alla perfezione tutte le partite anche ieri ha saputo imbrigliare l'Atalanta che a conti fatti ha creato solamente due occasioni da palle ferme e con la fisicità dei suoi calciatori poi vabbè, l'ha vinta, come dire, per un episodio fortunato ma è anche vero che i nerazzurri con tutto il potenziale che hanno in campo anche quando giocano partite prevalentemente offensive riescono sempre a trovare uno spunto, una giocata e quindi in Italia questa è sicuramente l'arma vincente mentre in Europa si dovrà fare sicuramente di più e poi la battuta strepitosa sui 40 euro in tasca per chi gli ha chiesto se si sentiva lo scudetto in tasca è comunque divertente ed è comunque tanta roba così come l'urlo all'arbitro, al segnalini che dimostra ancora una volta tutta la grinta e la determinazione di questo allenatore durante le partite grazie a tutti grazie a tutti